D'esta grande preoccupazione è il blocco di esportazione del grano dell'Ucraina, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente paesi più poveri. Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi, per favore, non si usi il grano alimento di basse come arma di guerra.